la carta la carta la carta non riesce a ammazzarla il cane il cane è dietro la carta un attore lungo la carta la carta la carta la carta il minuto non mettere su youtube e non si stacca che sotto c'è trova lasciarlo libero, vediamo se ci risolverò la scuola la scuola vado così? penso esi